La questione del ponte Belvedere si arricchisce di un nuovo passaggio che però non dovrebbe pregiudicare il percorso quasi al termine ormai per la realizzazione dell'infrastruttura secondo fonti comunali. La faccenda finisce nelle aule giudiziarie comunque perché il tecnico Enzo Siviero porta in tribunale il comune che nei giorni scorsi si è comunque costituito in giudizio per difendere le proprie ragioni. L'ingegner Siviero, tecnico molto noto che ha progettato tra le altre cose anche il ponte Flaviano di Pescara, ha impugnato il provvedimento dirigenziale del 22 giugno scorso con il quale il comune aveva revocato dopo averglielo affidato l'incarico di collaudatore eppure di presidente della commissione di collaudo dei lavori per l'opera di demolizione e ricostruzione del ponte. L'incarico il comune glielo aveva revocato per un presunto conflitto di interesse. Siviero aveva partecipato alla procedura di gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di sostituzione del ponte come mandanti assieme al consorzio stabile Renova. Per questo motivo secondo il responsabile del settore di costruzione del comune ci sarebbe il conflitto perché avrebbe partecipato alla gara per progettazione e lavori. Siviero da quel che si sa aveva pure presentato una memoria ma per il comune non avrebbe quella risolto le cause di inconferibilità rilevate. Con il provvedimento del 22 quindi il comune revoca l'incarico e annuncia che si provvederà alla nomina di un nuovo collaudatore. Siviero non aveva ancora iniziato l'attività visto che si attende ancora il progetto esecutivo che manca di approvazione ma sarebbe indirittura d'arrivo. Di certo c'è che il 6 settembre l'ente ha affidato la verifica del progetto ad un soggetto verificatore terzo per accelerare rispetto ai tempi dettati dal genio civile e fare prima. In caso di esito positivo si potrà partire subito con i lavori. La ditta ha 30 giorni per la verifica. È di Milano ed è di caratura nazionale spiegano dal comune. Incasterà 34 mila euro circa per la verifica. Il progetto che si sta verificando è quello della Belvedere Scarla a cui è affidata anche la ricostruzione del ponte. La demolizione del vecchio è ormai conclusa da un po'. Le operazioni di svaro del ponte erano iniziate ad ottobre dell'anno vecchio e concluse tra febbraio e marzo. Sono passati infatti più di 13 anni dal sisma che ha danneggiato gravemente l'opera e questa è una delle infrastrutture più attese in città.